E' in programma per domani 9 febbraio alle 10.30 nella sede della Camera di Commercio di Sassari in Via Roma l'incontro relativo alle priorità di sviluppo infrastrutturale della Sardegna. Il momento di analisi prende uno spunto da uno studio articolato di Unione Camere, Unione Trasporti relativo ai fabbisogni delle imprese, che esamina lo stato dell'arte delle infrastrutture dell'isola definendo al tempo stesso gli interventi necessari per accrescere il livello di competitività dei territori. saranno presenti, oltre ai vertici camerali, i rappresentanti di Unione Trasporti e le associazioni di categoria.